Il questore di Palermo, a seguito di accertamenti condotti dalle articolazioni investigative della Questura e in ragione di un procedimento istruito dalla divisione anticrimine, ha disposto due d'aspo nei confronti di altrettanti tifosi palermitani. I provvedimenti sono l'immediata risposta fornita dalla polizia alla grave aggressione portata da un nutrito gruppo di supporter ricollegabili alla tifoseria organizzata palermitana nei confronti di tifosi comaschi giunti al seguito della loro squadra in occasione dell'incontro di calcio valido per il campionato di serie B e disputatosi allo stadio Renzo Barbera tra le squadre del Palermo e del Como. L'aggressione è avvenuta nei confronti di due minivan con a bordo tifosi lariani quando i mezzi, in fase di avvicinamento allo stadio, in transito in via del Carabiniere, sono stati oggetto di ripetuti calci e pugni. Gli aggressori sono riusciti a far arrestare la marcia dei mezzi, hanno aperto le portiere e sono entrati nei minivan cercando di percuotere i tifosi ospiti. Il dispositivo di sicurezza previsto dalla questura ha scongiurato gravi conseguenze consentendo che gli aggressori si disperdessero e rinunciassero ai loro propositi di violenza. Le forze dell'ordine sono riuscite a bloccare all'interno di uno dei van assaliti un giovane palermitano di 22 anni con precedenti di polizia. Sono poi giunti all'identità di un secondo aggressore, un palermitano di 23 anni, attraverso i documenti e gli effetti personali contenuti in un portafogli rinvenuto all'interno del minivan. Anche in questo caso si tratta di un giovane appartenente alla tifoseria organizzata del Palermo. Il questore ha disposto un daspo di 5 anni nei confronti del primo e di 3 anni nei confronti del secondo. Sono in corso accertamenti per risalire alle identità degli altri componenti del gruppo.